ecco qua aprite le porte le feste di di vigilia di fiancolata di borno 2020 e allora buone feste a tutti ecco e soprattutto siamo qua a borno alle vacanze e voglio dire voglio ringraziare la manfara di borno a buttare giù le persone fare la fiaccolata ma però stasera non c'è i fiocchi i fiocchi non c'è tutta sera perché di perché pagano perché pagano il comune di borno ecco ringrazio la fanfara di borno per portare giù le persone di sanfermo e voglio ringraziare anche il gruppo cai ecco e soprattutto data sera voglio aprire questo filmato per due feste ecco per la domenica nuova ecco e oggi è sabato 8 per tutti farò rispettiamo anche queste regole rispettiamo per tutti e luttano per poterci amare questa estate per ricordare per tutti caduti ma soprattutto per la tutta la fioccolata di comune di borno e soprattutto ringraziare la fanfara di borno e anche la sfidata di fioccolata di cai ecco chiudiamo una frase diciamo tutti buone feste si chiamano anche tutte estate diciamo buone feste e buon estate a tutti voi e rispettiamo le regole per stare a casa io resto a casa buone feste grazie a tutti